e eccoci qua ragazzi siete con il caro killer ghost e siamo in moto gp a valencia ultima gara e una vittoria una sconfitta cioè un secondo posto non ci cambia niente sentiamo i dati e dopo questa gara ci verrà offerto un altro contratto speriamo qualcosa sulla moto cp anche l'aprilia mi piacerebbe molto andiamo in pista primi non male facciamo questa ultima gara perfezione staccadona oh un po' come intranciavo il piede sto sacco staccadona staccadona ah bastardo sacco di merda bucata staccadona ma non è solo che non basta certe mele guarda un po' perfetta via via 1.41 ragazzi il suo moto 2 non è niente nostro nostra trazione controllata ma il moto gp ho avuto un piccolo assaggio è devastante cioè se accedere subito vai sempre per terra sempre 733 733 dai benissimo un secondo buon buon buono 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 piano piano ecco così uuuuuh 1.368 110 Girogaraggio, eh esatto, siamo due mostri Uh, un attimo l'avevo perso Uh, un attimo l'avevo perso Un attore in tasca Delicati Lasciamo cavolati in questi ultimi tre curve Uh, largissimo Ma ci siamo, c'è Killer c'è Ho fatto un giro di un secondo più lento, cazzo Cosa schifosa L'importante è vincere L'importante non è vincere, ma l'unica cosa è che conta Siamo terzi nella classifica, come sempre Niente, abbiamo finito questo primo anno di MotoGP Mondiale, anzi E dai, è stato bello alla fine Ora, appunto, il prossimo è vincere il titolo in MotoGP E... All'inizio con l'Aprilio non so come andrà, bene o male Se è tutto basato sullo sviluppo MotoGP Quindi, se sviluppiamo bene la MotoGP E' più competitiva anche della Honda e della Yamaha E' così sto gioco Uh, scegliere un nuovo contratto Andiamo, eccola Aprilia Racing Zoom, GT, Avant, Ducati Vabbè, questa è la Moto3 Ma, cercherò come sempre la mia bella, amata Aprilia Moto italiana, pilota italiano Cosa ne dite voi? Anche adesso non mi piacerebbe Ehi ragazzi Per questo video è tutto Adesso scelgo la piglia E ci vediamo nel prossimo video Che sarà completamente tutto in MotoGP Perché non ritornerò più in Moto2 e Moto3 Tanto Rossi ha vinto, bella Ottimo E cosa vi devo dire? Ci vediamo nel prossimo video Siete sempre numerosi Mi aspetto di like, pollicione in su E vi saluto Ciao Siete sempre trimite Grazie a tutti.